Come prosegue il trattamento dell'anoressia giovanile? Questo video segue i due precedenti dove ho dato una parola a Mecca del trattamento dell'anoressia giovanile con la terapia strategica e sono sceso poi più nel dettaglio della prima seduta. Se non l'hai visti fallo ora. Se la prima seduta è andata come previsto ti rendrai conto che già nella seconda ci sarà un clima di maggior collaborazione e apertura. La giovane o il giovane saranno infatti riprendendo una sana nutrizione però con la possibilità di sentire che hanno controllo sulla cosa, sul cibo, che possono gestire loro questa nuova alimentazione. Soprattutto avranno la visione di un giusto controllo sul loro aumento ponderale e questo collima con il bisogno di vedere che le cose procedono gradualmente e sotto il loro controllo appunto. Ricordati che sottostante a un problema c'è sempre una percezione e comprenderla ti permette di capire meglio come calzare la terapia al tuo cliente. Comunque sia se anche le cose stanno procedendo bene ricorda ciò che diceva Steve Deschazer, non essere mai più entusiasta dei tuoi clienti. Sei ancora all'inizio non è il caso di pensare che tutto proceda in discesa. Così fatti i dovuti ma non eccessivi complimenti dovrei anche sottolineare che quello fatto è soltanto il primo passo. La comunicazione è qualcosa di strategico all'interno della terapia, quindi qualcosa che devi tenere sotto controllo. Non devi fare dei complimenti solo perché è carino farlo, con il rischio di cadere in quella che Boardman ha chiamato la tirannia della gentilezza. Non siamo delle cheerleader, incoraggiare i clienti non è un atto dovuto e scontato a prescindere, è appunto invece un elemento strategico. E in questo caso non devi far adagiare né i clienti né la famiglia sui risultati ottenuti e soprattutto tu non devi abbassare la guardia. Dovrai apparire scetticamente ottimista. Complimentati per i risultati in vita ad andare avanti ma contemporaneamente insisti sulle difficoltà e sui pericoli del percorso e sulla necessità di avere tenacia, pazienza e resistenza. Così se ci saranno degli inciampi i pazienti e la famiglia ne saranno stati avvertiti e questo ridurrà eventuali scoraggiamenti. E se invece inciampi non ce ne saranno sarà per loro un rinforzo positivo del fatto che stanno andando incredibilmente bene. Generalmente per i 5-6 incontri successivi si mantiene la rotta e si aiuta la persona a fare quello che ha fatto nella prima seduta a recuperare quei 4-5 chili necessari. Consiglia che stiamo parlando di appuntamenti generalmente quindicinali, quindi un mezzo chilo a settimana, no rush, niente fretta, altrimenti spaventiamo il cliente. Se c'è un blocco in questa fase, un inciampo, un rallentamento o anche un'accelerazione, bisogna fermarsi e vedere con tutti i presenti che cosa l'ha determinato. Per esempio intacca se il paziente si è spaventato o se non c'è un vero accordo sugli obiettivi, o se la famiglia magari ha rimesso in atto dei tentativi disfunzionali di soluzione e di interazione. E se è scontato che un blocco o un rallentamento possano esserci, devi prestare particolarmente attenzione invece all'altro aspetto, alle accelerazioni. Per quanto ti possa piacere come terapeuta breve un risultato veloce ottenuto in poche sedute, devi stare in guardia di fronte a risultati che sono fragili oppure instabili. Ad esempio la ragazza potrebbe non accettare un miglioramento troppo repentino e spaventarsi o non accettare un aumento ponderale evidente. Vai piano, le puoi comunicare, chi va troppo veloce finisce fuori strada. A questo punto come si prosegue? Innanzitutto considerando che il piacere sarà il compagno di viaggio di questa fase della terapia. Bisognerà proprio continuare a aumentare il piacere che la persona prova verso il cibo, verso le sue cose preferite per mangiare e ridurre invece la dispercezione o i timori relativi all'aumento ponderale. E infine si entrerà nelle due fasi conclusive della terapia, che vedremo nel prossimo video.